Sono iniziati i lavori di rimozione con elicottero delle grosse piante cadute nel cimitero della Noga a Villa Dossola a causa della tromba d'aria che ha investito la zona a fine ottobre. Impossibile raggiungere l'aria che si trova dietro alla chiesa alla quale è collegata da una mulattiera con mezzi di terra idonei, indispensabile l'impiego del velivolo. Dall'ufficio tecnico comunale spiegano che la tromba d'aria ha sradicato un pino alto circa 20 metri e spezzato alla base due cipressi i quali cadendo hanno provocato diversi danni ad alcune tombe, alla pavimentazione dei vialetti che è stata divelta, ai cordoli che delimitano le aree sistemate a verde e alla barriera di protezione in legno ai campi sottostanti. Dei quattro alberi presenti all'interno dell'area cimiteriale, per l'unico ed ultimo pino alto circa 18 metri rimasto in piedi, è stata eseguita una valutazione della stabilità. È stata sufficiente un'analisi visiva per evidenziare la necessità di abbattere anche quest'ultima pianta, irrimediamilmente danneggiata dalla calamità naturale e risultata pericolosa per la pubblica incolumità. Il 90% del materiale legnoso è stato già rimosso, previo depezzamento delle piante cadute e smontaggio di quella ancora in piedi. Rimane ancora un volo più corto che verrà effettuato entro venerdì per rimuovere una grossa ceppaia in fase di pulizia e sezionamento. L'elicottero ha trasportato le quattro piante per uno stoccaggio temporaneo sul versante opposto della montagna rispetto al cimitero, in prossimità dell'Alpe Basciumo, in una radura, in quanto per sicurezza non è possibile sorvolare il centro abitato. Il cimitero resta chiuso al pubblico. Dopo gli ultimi lavori di rimozione delle piante previsti venerdì, potremo meglio verificare i danni all'interno del Campo Santo e capire come intervenire, riferisce il sindaco di Villa Dossola, Bruno Toscani.